Cari amici, buongiorno! E anche stamattina, sabato 20 gennaio, andremo a meditare la parola del Signore. Signore, cos'è l'uomo perché te ne prenda cura? Questo testo lo trovate nel Sammo 144, versetto 3. E ancora, ecco, io sono troppo mischino, che ti potrei rispondere? Questo testo lo trovate in Giobbe, capitolo 40, versetto 4. Invece, il titolo di oggi è Cos'è l'uomo? Parte 1. L'uomo non è che un giungo, il più debole della natura, ma è un giungo pesante. Questo pensiero di Blaise Pascal ricorda quando l'uomo sia piccolo, debole, fragile. Si è paragonato all'immenso universo che lo circonda. Di fronte allo scatenarsi degli elementi della natura, o dovendo affrontare gravi difficoltà, prove, malattie, sofferenze, morte, dove può trovare soccorso l'essere umano? Nella Bibbia vediamo il re Davide esprimere ripetutamente l'ancoscia che prova di fronte alla potenza dei suoi avversari. Giobbe, invece, viene colpito da una serie di prove gravissime. Entrambi si rivolgono a Dio per capire cosa voglia insegnare loro. Giobbe domanda a Dio Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ti interessi a lui e lo visiti ogni mattina e lo metta alla prova ogni istante? Egli avverte fortemente la propria pochezza, confrontandosi con Dio, ma al tempo stesso attraversando le prove che lo colpiscono. Ricevo un grande ammaestramento, proprio lui, creatura, così insignificante e oggetto delle cure del grande e onnipotente Dio del cielo. Alleluia! Si tratta di una lezione che dobbiamo imparare a fare nostra. Fissiamo i nostri occhi su Dio per conoscerlo non solo come il creatore onnipotente, ma anche come colui che ci libera, il Dio salvatore. Egli vuole parlarci, condurci a estaurare un vero rapporto di condivisione con lui e istruirci durante la nostra vita terrena, mostrando di essere un padre che si prende cura dei suoi figli. Cari amici, quindi, cos'è l'uomo? L'uomo, magari, noi stessi, ci paragoniamo alle cose che, l'abbiamo detto già mille volte, ci paragoniamo alle cose di questo mondo, ci fermiamo sulle cose di questo mondo e magari ci scoraggiamo, magari una malattia, o magari una perdita di lavoro, e noi ci scoraggiamo subito, ma ci siamo dimenticati che al nostro fianco abbiamo Cristo Gesù. Cristo Gesù è sempre attaccato a noi, è indelebile, è la nostra, come vi posso dire, è la nostra ombra. La nostra ombra è come tu ti vedi l'ombra? Dici, io non sono solo, c'è Cristo Gesù insieme a me, quindi non sei solo. Quindi l'uomo può essere debole su questo mondo, ma agli occhi di Dio, a Dio gli piace l'uomo debole perché prende forza da quell'uomo debole. Quindi devi rafforzarti, più sei debole, più devi avere forza, più ti abbatti, più ti devi rialzare, perché Dio ti sta guardando nel profondo dell'anima e Dio sta guardando proprio te, te che hai bisogno. Quindi confida solo nel Signore Gesù Cristo e in Lui abbiamo la vittoria e il male fuggirà, il male se la darà a gambe. Caro amico, cara amica, ti auguro una splendida giornata nell'amore di Gesù. Grazie per la visione!